Benvenuti a 10 minuti con Pegli.com. In questo episodio parleremo dell'urbanizzazione di Pegli. Quindi partiremo dalle ipotesi sulle origini dell'abitato fino allo sviluppo a cavallo tra 1800 e 1900. La fondazione dell'abitato Pegliese, o almeno di un suo nucleo primigenio, non è storicamente databile con certezza. Non è possibile risalire a documentazioni riguardanti toponimi oggi rincracciabili con sicurezza sul territorio. Non è raro imbattersi in fonti discordanti sulle localizzazioni o addirittura sulle datazioni. Alcune certezze storiche e convergenze di vedute tra i ricercatori si possono individuare nella costruzione in collina delle chiese più antiche. Santi Martino e Benedetto sull'asse centrale dell'attuale abitato e San Marziano in La Piosa, oggi abbandonata, posta nella zona di Ponente. Nella fascia di territorio posta tra la costa e le pendici delle colline, si possono invece individuare le ville nobiliari, con relativi parchi di grande estensione che si addentrano nell'entroterra. Nel caso delle famiglie Lomellini e Doria, si rileva la presenza di palazzi o addirittura architetture difensive in riva al mare. Se con l'ammiraglio Giovanni Andrea Doria si registra l'estensione del complesso Centurione-Doria sino alla costa con il palazzo La Marina, è evidente la massiccia presenza della famiglia Lomellini nell'estremo Ponente a controllare l'intero arco portuale pegliese. Nel promontorio di Ponente, salita Rapalli, e nel torrente Varenna, un tempo solo guadabile, si riscontrano i limiti dell'espansione dell'abitato costretto ad uno sviluppo quasi esclusivamente costiero. I complessi Doria e Lomellini, ai quali si può aggiungere successivamente il Pallavicini, rappresentano ulteriori ostacoli interni inglobati nel tessuto urbano solo in epoca relativamente recente. Non è possibile individuare tra i residenti un'univoca vocazione lavorativa riscontrando nella storia di Pegli cenni alle attività di pesca, alla cura delle ville, alla navigazione, al commercio, alla colonizzazione e alla macinazione. La rappresentazione cartografica del Vinzoni costituisce probabilmente il miglior punto di partenza per lo studio e l'analisi dell'evoluzione del tessuto urbano pegliese. Partendo quindi nell'indagine storica dal 1773, si possono comunque tralasciare, nello specifico caso dell'analisi della viabilità, studi del territorio antecedenti che, se non legate da architetture religiose o nobiliari, difficilmente possono essere ricondotte a notizie confermabili con certezza inopugnabile. Sovrapponendo la carta del Vinzoni, riproposta in opportuna scala, ad una vista aerea moderna, è possibile apprezzare la precisione del cartografo e la conseguente attendibilità della mappa. Il confronto evidenzia una maggiore accuratezza nell'osservazione e nella rappresentazione delle distanze spostandosi lungo la direttrice est-ovest. Maggiori discrepanze si possono invece incontrare nella verifica delle distanze tra gli edifici in profondità, allontanandosi quindi dalla costa. È comunque possibile adattare la carta del Vinzoni alla vista aerea moderna e ricavare in sovrapposizione dei riferimenti storici con gli edifici moderni esistenti. Da Ponente a Levante possiamo osservare La chiesa di Sant'Antonio, la Villa Lomellini-Villa Banfi, la Villa Lomellini-Villa Rosa, il Fortilizio dei Lomellini-Hotel Miramare, il Palazzo dei Lomellini-Hotel Mediterranea, Villa Centurione Doria, il Palazzo Doria La Marina, l'Oratorio di San Martino, la Chiesa dei Santi Martino e Benedetto. Su questa mappa sono state riportate tre linee colorate, una gialla, una blu e una verde. Servono a rappresentare indicativamente il limite della costa e del torrente Varenna, il limite imposto dai parchi e dalle ville e dall'inizio delle colline pegliesi. Riorganizzando gli edifici rilevati dal Vinzoni sull'attuale impianto urbano rappresentato dalle fotografie aeree, dopo opportuna ripulitura dalle architetture scomparse o minori e non facilmente riconducibili alle attualmente esistenti, si può ancora notare una fondamentale conservazione dell'originale assetto stradale dell'abitato. È sufficiente sovrapporre l'abitato superstite del 1773 per veder confermato l'originale embrione dell'impianto viario pegliese. La primordiale strada sterrata costiera, usata per il ricovero delle barche e sulla quale con molta probabilità è nato e cresciuto l'abitato, si è evoluta nell'asse viario lungomare di Pegli, via Pegli. La viabilità secondaria che penetra nell'entroterra perpendicolarmente alla costa trova anch'essa conferma nelle tre vie denominate da Levante a Ponente, Carruggio, Crosa e Fossato. Gli attuali toponimi riconducibili alle citate vie sono Vico Sinope, Vico Condino ed il tratto a mare di Viale Modugno. Uno sguardo fugace all'attuale stato del tessuto urbano pegliese mostra come l'apertura dell'asse viario costiero verso i quartieri nimitrofi abbia permesso l'integrazione della delegazione nel comune di Genova. Pegli, come i restanti ex comuni, mantiene però una propria dimensione e identità, riferibile in altri contesti ad abitati autonomi e slegati da città o città metropolitane. Dalla sorrapposizione di alcuni edifici e di parte della rete viaria del Vinsoni su di una fotografia aerea dell'abitato pegliese è possibile notare come le principali strade individuate nel 1773 siano sopravvissute discostandosi solo lievemente dal loro impianto originale. All'estremo ponente il tratto iniziale di salita Rapalli ha ceduto la funzione di collegamento con Prà al più recente asse viario costiero in corrispondenza del castello Vinson. La strada che da Porticciolo conduceva Villa Lomellini, Villa Rosa, sopravvive oggi nel tratto terminale di Viale Modugno. La Crosa è divenuta un più articolato insieme di toponimi Vico Condino, Piazza Ponchielli e Via Beato Martino d'Apegli. Il carruggio è stato aperto all'estremità a monte in corrispondenza di via Ignazio Pallavicini. Le strade di Levante lungo la riva del torrente Varenna sembrano invece sopravvivere in via Pian di Lucco. Risale al 1862 il progetto incentrato sulla realizzazione di una strada interna parallela al lungomare di Pegli. L'opera, realizzata solo nel tratto via Sabotino, via Ignazio Pallavicini, via Parma e mancante dei previsti ricongiungimenti a mare, ha però permesso l'apertura a monte di Vico Sinope, un tempo chiuso in corrispondenza dell'attuale palazzo del municipio. L'originale assetto insediativo e viario dell'abitato è stato per secoli dettato dallo sviluppo costiero, dai vincoli collinari e torrentizi, senza trascurare la preponderante presenza di numerose ville con ampi parchi riconducibili a famiglie tra le più note e potenti della storia genovese, quali Centurione, Doria, Lomellini, Pallavicini. Solo a cavallo tra il 1800 e il 1900 si registra un moderno ampiamento del tessuto urbano verso l'entroterra e a scapito di quei parchi e di quelle colline un tempo aree non sfruttabili. Al marchese Ignazio Pallavicini dovrebbe essere riconosciuto il merito di aver impresso la svolta decisiva nella storia pegliese, indirizzando lo sviluppo del quartiere verso l'attuale assetto predegradato. Nel 1846, in occasione dell'ottavo congresso degli scienziati italiani, viene inaugurato il parco di Villa Durazzo Pallavicini. Nel decennio successivo il marchese concorda la fermata di tutti i treni passeggeri nella stazione costruita sui terreni da lui donati e dà il via all'offerta turistica pegliese attraverso la realizzazione dell'hotel Michel, poi Hotel de la Ville ed Angleterre, che si affianca all'hotel Gargini, ex palazzo Doria la Marina. Nascono quindi gli stabilimenti balneari della società in accomandita Bagni Pegli, dal 1870 Hotel Mediterranea. Agli iniziali servizi turistici e alberghieri seguono a cavallo tra il 1800 e il 1900 gli insediamenti residenziali di prestigio, prima in Viale Modugno, Villini Vecchi, e poi in Via Vespucci, Villini Nuovi. A seguito dell'accorpamento di Pegli alla Grande Genova, 1926, il quartiere viene assoggettato al disegno industriale del ponente cittadino e solo parzialmente risparmiato dagli insediamenti maggiormente impattanti. L'originale turismo di alto livello, previsto dal marchese Ignato, Pallavicini, conosce un inesorabile declino, inizialmente solo qualitativo e compensato dall'incremento numerico, fino all'azzeramento odierno. Insediamenti residenziali di minor prestigio ed anche edilizia popolare vanno tamponando le aree edificabili residuali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!